Gioco e sport insieme per sostenere l'ospedale pediatrico Salesi. Un progetto rivolto alla salute dei più piccoli, quello presentato dal presidente Luca Ceriscioli, che vede collaborare Fondazione Salesi, Volley Lube, Consult Invest e Clementoni. Da quest'anno le maglie che indosseranno i campioni del basket e del volley in giro per l'Italia e l'Europa avranno il logo della Fondazione Salesi, ha detto il presidente Ceriscioli, perché l'attenzione e la vicinanza della regione verso famiglie e bambini che ne hanno più bisogno è costante e si attiva anche attraverso iniziative come queste, che donando visibilità alla struttura concorrono a rafforzarla per il bene più prezioso che è la salute dei bambini. Per la nuova casa dell'ospedale pediatrico la regione ha stanziato 50 milioni di euro, crescita che verrà accompagnata da operazioni di visibilità come questo progetto che esalta qualità e servizi. Queste collaborazioni sono una manna per rimetterci in contatto con tutti i cittadini, perché sai oggi la comunicazione passa attraverso mille riboli, spesso passano anche delle cose false, cose maldette. Noi siamo un bello ospedale per le mamme e per i bambini, non solo per le Marche ma anche per le altre regioni dell'Adriatico. Attraverso lo sport faremo in modo di farci conoscere meglio. Storicamente il Salesi è una grande realtà assistenziale di alta specializzazione per la cura del bambino e delle mamme. La struttura rappresenta un'eccellenza per le Marche. Ad oggi sono 11.000 i ricoveri ordinali e 22.500 gli accessi al pronto soccorso, in quello definito l'ospedaletto dei bambini, divenuto di riferimento non solo per le Marche ma per altre 5 regioni rimitrofe. Il futuro è consolidare questa storia e rilanciare l'immagine di eccellenza sanitaria. Il nuovo Salesi sarà un ospedale pediatrico nell'area di Torrette, organizzato secondo i criteri più moderni, tipo altri ospedali specializzati italiani. Riprenderà questa tradizione nata nel 1900, ecco, dell'ospedaletto dei bambini. Nello stesso tempo per le mamme ci sarà un percorso nascita più adeguato. Insieme, per rimarcare la bellezza dell'iniziativa, nello straordinario connubio gioco sport. Metteremo sulle maglie il logo della Fondazione Salesi, dell'ospedale Salesi. Avremo iniziative di vario genere che stiamo cercando di sviluppare appunto con i Salesi e cerchiamo e speriamo di promuovere questo messaggio non solo a livello marchigiano, perché sarebbe troppo poco, ma di portarlo in Italia, di portare questo messaggio positivo di realtà che pensano a 360 gradi. Abbiamo accolto questa collaborazione con molto piacere, Molto piacere perché il Salesi è un'espressione molto importante e credo che noi rappresentiamo un po' il vertice dello sport marchigiano in genere e quindi questa, diciamo, partnership è sicuramente una cosa estremamente importante. Consolida la partnership con il Salesi l'azienda Clementoni, che oltre ai giochi ha attivato da tempo l'esperienza dell'operatore ludico vicino ai bambini nell'affrontare la vita dell'ospedale. Insieme faremo un gadget per i bambini che durante le partite avranno la possibilità di acquistarlo e il ricavato di questo gadget ludico chiaramente andrà alla Fondazione Salesi.